Vuole essere una manager e non una mamma di famiglia perché ritiene che il paese ha bisogno di una donna che sappia far quadrare i conti, ma fin da subito annuncia di rinunciare all'indenità di carica qualora il corpo elettorale la eleggerà sindaco. La voglia di fare politica abita ancora a Elisa Mampieri, già consigliera comunale, dirigente del Ministero dell'Economia in pensione, che è pronta a scendere in campo per guidare la comunità dentro d'acqua. Le elezioni amministrative in programma a maggio 2019 sono ancora molto lontane, ma dopo Paola Ruffo anche la Mampieri spiega le ragioni che hanno portato a ritorno sulla scena politica all'età di 78 anni, portati benissimo. Ha già pronto il simbolo La Torre e la lista che conta più donne che uomini, anche se il momento clou arriverà solo a febbraio-marzo quando inizierà la raccolta di firme per la presentazione ufficiale, ma lei non ha paura delle formalità e ha deciso di iniziare a lavorare con grande anticipo. Ho la professionalità, la serietà, l'onestà di poter portare avanti un comune che è in grave difficoltà. Non vorrei fare la mamma di famiglia, la manager. Il comune è dentro d'acqua nelle condizioni in cui ha bisogno di una persona, anche una donna come me, che sappia gestire. Oltre ad essere dirigente del Ministero dell'Economia in pensione, io sono revisore legale dei conti, ancora in attività. Quindi nei conti e soprattutto nel modo di sapere gestire la spesa del comune, saprei fare tantissimo. Chiaro il riferimento al disavanzo di amministrazione, pari a 618 mila euro, almeno quello già quantificato. Io ho sempre amato il mio paese e perciò desidero che questo paese rinasca, non solo nel paesaggio che va valorizzato, noi abbiamo delle montagne bellissime che sono abbandonate a se stesse, ma soprattutto nella cultura, nel turismo e anche nelle attività commerciali. È un paese che sta morendo. La candidata a primo punto del suo programma elettorale collocherà la rinuncia dell'indenità da sindaco. Ma che tipo di campagna elettorale si aspetta? Io mi aspetto questa volta una campagna elettorale vivace, non sotto tono, come è successo nelle volte precedenti dove i giochi erano già fatti, ma una campagna alla luce del sole dove ogni candidato sindaco per la propria lista possa dare dei contributi che siano positivi per i paesi. Sua competitor sarà la socialista Paola Ruffo, ma non sarà la solita corsa a due, sempre se gli annunci di dicembre saranno messi nero su bianco ad aprile. I candidati a sindaco potrebbero essere tre, perché la compagine politica del campanile deve ancora esprimere il suo candidato. E non finisce qui.